Beh, ho avuto modo di vedere i video che voi ci avete mandato, ci avete spedito, per il nostro 5x1000. Beh, ho trovato delle cose veramente di grande fantasia e di grande creatività, ma anche di grande impegno e di grande generosità. E devo dire che alcuni sono veramente molto simpatici e graffilo nelle coscienze. Bruttolieno, non ti scordere più del Noi, dopo che il mio raggio laser 5x1000 del gruppo Beller sembra colpito. Invitano veramente le persone a non dimenticarsi che siamo chiamati a metterci in gioco, perché è il Noi che vince. Voi siete stati bravissimi a interpretare il Noi, perché questa non è opera di navigatori solitari. E non è un caso che la campagna abbiamo voluto insieme chiamarla Non ti scordare del Noi. Non ti scordare del Noi! Dona il tuo 5x1000! Al gruppo Beller! Perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, della nostra responsabilità individuale ma anche di una corresponsabilità collettiva. Allora mettiamoci la faccia, continuiamo a mettercela tutti quanti insieme. Grazie per chi ci ha dato una mano a continuare a seminare speranza. Non ti scordare del Noi! Dona il 5x1000! Al gruppo Beller! 5x1000! Perumura! Perumura! Perumura!